buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 2 dicembre 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi perché poi daremo un pochino più spazio alle previsioni del tempo perché stamattina le marche sono spazzate da un vento veramente molto molto forte vediamo l'almanacco del giorno e vediamo che si festeggia Santa Bibiana che visse nel quarto secolo a Roma morì martire morì martire sotto il governatore Aproniano che avendo perduto un occhio in battaglia aveva dato la colpa di questa grave mutilazione ai cristiani e aveva ripreso a perseguitarli ebbene Bibiana fu catturata in quanto cristiana e fu uccisa pensate a forza di frustrate veramente un supplizio molto molto doloroso e allora adesso diamo un'occhiata alle previsioni del tempo come vi avevo annunciato ecco la situazione è instabile è instabile su tutto il territorio specie al mattino con nubi e precipitazioni più estese e insistenti nelle aree interne rispetto alla costa calo termico le temperature 10 16 gradi ma sono in ribasso rispetto al vento caldo di ieri comunque ancora questa mattina non fa molto freddo ma veramente il vento è molto forte sulle coste spirerà da sud ovest così come nell'interno il mare è molto mosso il sole sorge alle 7 30 e tramonterà alle 16 e 28 ma diamo un'occhiata a quello che i giornali riportano sulle previsioni del tempo e vediamo qui un titolo sulle corriere adriatico per quanto riguarda le previsioni atmosferiche tempeste burrasca scatta allerta meteo un bollino arancione su tutte le marche per vento forte addio al caldo anomalo che ha imperato per in questi giorni è atteso un brusco calo delle temperature con una diminuzione in modo particolare dei valori massimi delle temperature più alte della giornata e allora diamo un'occhiata che cosa accade l'allerta meteo questa volta è dovuta per il vento forte di burrasca o di tempesta che si protrerrà dicono le previsioni fino alle ore 12 di oggi per poi tornare a livello giallo adesso siamo a livello arancione meno pericolosa ma sempre un'allerta importante fino alle 24 massima attenzione dunque per l'eventuale caduta di rami e alberi specialmente sulle strade dimentichiamoci il caldo anomalo di ieri perché la temperatura gradatamente andrà ad abbassandosi fino ai termini autunnali quasi invernali siamo ormai vicini all'inverno la prossima settimana le condizioni peggioreranno e caleranno anche le temperature riportandosi appunto su livelli invernali per un nuovo lento recupero termico sarà necessario attendere fino all'inizio della prossima settimana quando il flusso dominante si disporrà nuovamente dai 40 dai quadranti occidentali questo un po il quadro delle previsioni atmosferiche ed ora apriamo la pagina sulla città di fano sul corriere adriatico e vediamo che l'apertura è dedicata alla politica si annuncia un dibattito tra i due candidati sindaco che sono stati ufficializzati al momento e chi sono sono uno del centro sinistra e uno del centro destra ebbene samuele mascarin che è stato il primo a rompere gli indugi e a proporsi quale candidato alle primarie che ancora però il centro sinistra deve dicedere nel centro destra invece è sorto alla ribalta giuseppe de leo con la sua lista civica i due si confronteranno pari e a pari mercoledì prossimo alle 17 alle 16 alle 16 nel hotel tag nella zona industriale di bellocchi di fano dibattito tra mascarin e de leo un forte scossone alla politica perché in questo momento un po' tutti i grandi partiti del centro destra e del centro sinistra sonnecchiano sì si incontrano ogni tanto però non arrivano a nulla ancora non si è realizzata un legame di coalizione in modo almeno nel centro sinistra al modo da riuscire a proporre un programma unico e una candidatura unica non si è ancora nemmeno deciso se e quando fare le primarie anche se questo è uno degli obiettivi più importanti che ha sollevato samuele mascarin giuseppe de leo 69 anni un remoto trascorso politico quale dirigente del comune di fano ma soprattutto è stato anche direttore generale quando il direttore generale era una vera e propria autorità adesso invece questa figura è stata abolita ebbene ha un trascorso politico con il partito socialista fin dagli anni 90 e poi anche un ha militato in forza italia ebbene giuseppe de leo conta di riunire il centro destra sotto la sua esperienza un'esperienza consolidata per quanto riguarda i termini dell'amministrazione pubblica invece samuele mascarin giovanissimo assessore della pubblica istruzione come un carico che occupa anche adesso ma lo ha ricoperto giovanissimo e quindi anche lui ha una solida esperienza di maturità per quanto riguarda l'amministrazione pubblica sarà un bel dibattito un bel dibattito che produrrà gli effetti importanti e Lorenzo Furlani pubblicando questo articolo termina così il dibattito evidenzierà la loro visione della città futura la visione di due candidati ma probabilmente questa un po un veramente una osservazione importante ma probabilmente ancora più del contenuto saranno rilevanti le reazioni che il confronto susciterà in modo da sollevare da insveltire un po le decisioni che dovranno essere assunte sia a destra che a sinistra ed ora diamo un'occhiata alle altre notizie un appuntamento importante domani alle 10 al Cinema Politeama di Fano organizzato dall'Avis la sezione Giuliano Solazzi di Fano qui si premieranno tutti i donatori di sangue un'iniziativa che ormai si replica dopo la pausa che è stata osservata obbligatoriamente per il covid quindi ci sono molti donatori che riceveranno una piccola gratificazione ma importante significativa per il loro operato un operato assolutamente gratuito che salva le vite umane e viene fatto senza alcuna ricompensa se non questo atto così di solidarietà che si replica poi costantemente di anno in anno ebbene ci sono stati alcuni dati ieri che sono stati dati nella conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa 3.854 donazioni effettuate dal 1 gennaio a novembre di quest'anno sono leggermente in flessione rispetto al pre-covid quando le donazioni erano molto vicino alle 4.300 ma sono in aumento rispetto al 2021-2022 e quindi anche gli anni scorsi si ritorna gradatamente insomma all'epoca pre-covid vediamo altri dati verranno premiati donatori che hanno raggiunto veramente un numero grandissimo di donazioni pensate che Orazio Gasperini ha toccato in 40 anni di dedizione 260 donazioni mentre in un quarto di secolo Elisabetta Negrucci è arrivata a 212 quindi un uomo e una donna le donne sono presenti in gran numero nell'Avis questo è ancora più significativo perché le donne è un pochino più difficile riuscire a effettuare le donazioni in tutto saranno 31 coloro che hanno raggiunto le 100 donazioni e tra questi c'è anche il sindaco Massimo Seri che ha ricevuto il distintivo Oro Smeraldo 157 sono quelli che hanno raggiunto 75 donazioni 103 50 donazioni e poi chi si è prietato oltre le 125 sono in 120 ebbene ci sarà poi la consegna della goccia d'oro che in questo momento ancora il destinatario è stato tenuto all'oscuro e lo si saprà soltanto nella giornata di domani veniamo alla cronaca per quanto riguarda quello che è avvenuto in via Montefeltro a Fano dove il marito ha strangolato la moglie ho soffocato mia moglie in una lite e mi dispiace vorrei tornare indietro sono le dichiarazioni di Angelo Sfuggiti al giudice quando è stato interrogato ha ammesso ovviamente il delitto lo aveva sempre detto fin dal primo momento quando è riuscito a parlare dal tentativo di suicidio che aveva inscenato subito dopo il delitto ebbene vediamo questo articolo perché ci aiuta a capire sempre di più magari anche dare un po' di solidarietà a quest'uomo Sfuggiti ha risposto alle domande del giudice e ha ripercorso quei tragici momenti ingerendo dei barbiturici ha provato poi a togliersi la vita e si è iniettato anche con una seringa dell'aria nelle veni ma per fortuna è stato salvato la moglie sofferente di una patologia psichiatrica si era alzata alle 4 del mattino ed era andata in cucina qui avrebbe iniziato a gettare a terra strofinacci e altri oggetti provocando del trambusto il marito si era svegliato per chiedere che cosa stesse facendo era andato con lei in cucina però la moglie lo avrebbe aggredito e sarebbe nato ovviamente un dissidio il marito ha cercato di difendersi è venuta poi una lite un'aggressione, calci e insomma altre cose e quindi poi la reazione in consulta di Angelo che ha stretto le mani al collo della moglie ora dovrà andare in carcere dovrà stare in carcere dopo che è stato ricoverato in ospedale sfuggiti per ora resta in psichiatria quando sarà ripreso dovrà andare in carcere chiederò una misura cautelare meno afflittiva ha spiegato il suo avvocato aspettando gli sviluppi ma si delinea già una possibilità processuale quindi sarà ovviamente processato veniamo alle altre notizie si parla anche di carnevale oggi sui giornali perché ieri c'è stata una conferenza stampa dell'ente carnevalesca che ha fornito delle anticipazioni sull'edizione del carnevale del 2024 le date del carnevale sono il 28 gennaio il 4 e l'11 febbraio sono le tre date delle sfilate dei carri poi ci saranno tante altre iniziative così di collegamento di alternative insomma tante feste e tante iniziative di divertimento comunque diamo un'occhiata a quelle che sono le novità innanzitutto la madrina del carnevale la madrina del carnevale è Beatrice Venezzi la bella e brava direttrice d'orchestra che si sta facendo apprezzare in tutto il mondo Sara Afano dirigerà l'orchestra sinfonica Rossini in un concerto e poi sarà presente ad una sfilata di carri e a lei sarà dedicato anche il carro del pupo quindi un carro che riproporrà le sue fattezze e quindi un omaggio a questa artista italiana che si è fatta valere in tutto il mondo perché poi insomma una donna che dirige l'orchestra adesso ce ne sono ma prima era insomma una vera e propria rarità e poi le altre novità abbiamo carri di seconda categoria nuovi come per esempio Jack in the Box ovvero pupazzo a molla opera di Valeria Guerra dedicato alle dieci maschere dei carnevali d'Italia che sono stati riconosciuti come memorandum per il patrimonio immateriale del UNESCO e di questo fa parte anche il Voulon di Fano altro carro nuovo di seconda categoria è un carro ispirato al brodetto realizzato dal maestro Matteo Angherra che così lo ha descritto vabbè adesso non vi do la descrizione ma vi dico semplicemente che è un carro che riguarda il brodetto in una veste molto satirica perché vediamo che sono i pesci che cucinano i cuochi con un grande polipo che poi agita i suoi tentacoli quindi è un bellissimo carro ma ci sono anche carri nuovi per quanto riguarda quelli più grandi quelli più mastodontici quelli di prima categoria ebbene uno è il Mangiasogni di Luca Vassilic che ha voluto rivendicare nell'ambito di una società che intende appiattire ogni individualità il diritto di sognare e quindi questo ci eleva un pochino verso l'alto l'altro carro è quello di Mauro Chiappa che si è dedicato invece ad un tema di grande attualità quale è quello dell'intelligenza artificiale dove il bacio è prettamente una caratteristica umana e lì l'intelligenza artificiale non può né replicare né riproporre l'emozione che si prova durante un bacio e quindi questo è un carro veramente molto significativo e allora cambiamo argomento e diamo un'occhiata a quello che accade a Pergola dove si parla ancora di bronzi perché i bronzi non solo sono una un elemento culturale di grande importanza storico, culturale, ecologico di grande importanza ma sono anche fonte di ispirazione da parte degli artisti e a questo proposito è stata inaugurata a Roma una mostra dell'olandese Will Wonderland ispirato appunto ai bronzi di Pergola bronzi dorati e imperatori promozione d'arte a Roma quindi anche tutta la città se ne giova perché poi questa è un'iniziativa che attira l'interesse della gente a Pergola perché lì vede le cose il frutto dell'ispirazione di là invece vede gli originali quindi è portata magari a venire a vedere i bronzi di Pergola vediamo invece a Senigallia a Senigallia si parla di un argomento così importante perché viene proposto con una veste inedita l'ora di religione aperta a tutti punto interrogativo applausi dalla comunità islamica ebbene se un islamico vuole presenziare ad un'ora di religione ebbene può farlo tranquillamente dovrebbe essere una cosa normale ma in questo caso acquista una eccezionalità perché poi le differenze di religione sono quelle che purtroppo generano episodi molto molto gravi come quelli che accadono in diverse parti del mondo dove addirittura scoppiano dei conflitti è la proposta della diocesi non solo per chi è cattolico i consensi della città favorisce il rispetto reciproco l'incontro pubblico che si è svolto per quanto riguarda oggi quindi non si è svolto si svolgerà oggi alle ore 17 presso l'auditorium San Rocco sarà intitolato all'ora di religione in un mondo che cambia e bisogna cambiare anche molto le mentalità via libera i cani entrano nei parchi pubblici a Senigallia lo ha deciso il consiglio resta invece il divieto nelle aree gioche per i bimbi per questioni igieniche questo per quanto riguarda un po' le notizie di Fano e dell'entroterra ora diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata a una reazione da parte del Partito Democratico all'approvazione della legge urbanistica da parte della regione Marche ci sono le critiche che sono state espresse dai consiglieri regionali Biancani e Vitri un secondo bagno in casa solo se è di interesse pubblico è uno degli esempi che i due che fanno parte della minoranza fanno per criticare la legge urbanistica in che senso in che senso prima se uno doveva fare una variazione interna alla propria abitazione una variazione non so doveva cambiare il bagno oppure doveva aggiungere un bagno bastava che ottenesse l'approvazione dei tecnici ora invece con questa nuova legge urbanistica bisogna andare all'approvazione del Consiglio Comunale e quindi secondo l'opposizione c'è una nuova normativa che rende tutto più complicato non solo poi la legge urbanistica regionale avrebbe cancellato il piano casa c'è una riduzione dell'ampliamento massimo che passa dal 40 al 20% e comporta soprattutto l'allungamento delle procedure di approvazione per i consiglieri si rischia un blocco dell'edilizia quell'edilizia che era sorta che era risorta invece con il piano casa con il bonus del 110% e questo comparto ora rischia di ricadere nel baratro della crisi San Benedetto appalto integrato in vista degli alloggi per studenti ex lavanderie tecnici e imprese realizzeranno il progetto esecutivo e anche i lavori e quindi si snellisce il percorso burocratico da parte della pubblica amministrazione e parliamo anche del taglio ai trasporti nei giorni festivi che tante polemiche ha suscitato in modo particolare ad Urbino quando durante le feste non si avrà la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici ebbene forse qualcosa cambia a questo proposito l'Adria Bus infatti in commissione ha rilevato la disponibilità della società a limare le scelte a fare qualche aggiustamento ma rimane comunque il problema di una forte carenza di organico insomma mancano gli autisti che rende molto difficile assicurare tutto il servizio e poi vediamo qui le fotografie dei maestri del lavoro a cui verranno concesse le onorificenze martedì 5 dicembre commemorando il centenario della stella al merito del lavoro con una solenne cerimonia al Quirinale chi sono? vediamo Patrizia Mezzolani Patrizia Del Moro Fausto Baldarelli Patrizia Cappelli e Stefania Del Moro sono delle beneficiarie della nostra provincia quindi merito a loro per il loro operato e poi un articolo di cronaca controlla anche la biancheria intima marito violento scatta il codice rosso un tema di che riguarda la gelosia il resto del carlino abbiamo parlato del carnevale 13 carri in griglia di partenza tutte le anticipazioni rispetto appunto al carnevale che inizierà alla fine di gennaio e poi il dibattito tra i due candidati sindaco che sono al momento alla ribalta Samuele Mascherin e Giuseppe De Leo l'incontro pubblico di mercoledì prossimo al Tag Hotel interrogato Luxo Ricida ho perso la testa per rabbia sono le confessioni di Angelo Sfuggiti che ha rivelato di aver ucciso la moglie alle 5 del mattino e poi vediamo ancora ci sono novità per quanto riguarda la pala del Perugino di Santa Maria Nuova che deve tornare dall'istituto centrale del restauro di Firenze slitta l'arrivo rinviato la settimana prossima l'assessore Fattori non c'è stata ancora comunicata la data precisa speriamo rientri già da lunedì prossimo e il 7 dicembre dovrebbe essere inaugurata nella sala Morganti la mostra dedicata al Perugino di cui quest'anno si celebra il cinquecentenario il cinquecentenario ebbene guardate che belle che belle presepe hanno realizzato alcune signore di terre roveresche 20 chilometri di filo che se srotolato avrebbero consentito di unire il loro paese al mare di Marotta ebbè veramente un'opera fantastica bellissima anche dal punto di vista estetico non solo dal punto di vista manuale guardate questo bellissimo presepe è una pala molto molto alta quasi 6 metri di altezza e di 5 metri di larghezza tutto fatto all'uncinetto veramente una cosa molto molto bella bisogna fare i complimenti a queste signore ad Urbino l'Inps rimarrà nel centro storico l'ente ha raggiunto un raccordo con il legato Albani Nicola Rossi dice è importante mantenere questi servizi in città e siamo in conclusione quindi non mi rimane che salutarvi darvi un appuntamento a lunedì prossimo e augurarvi un buon weekend grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti